Marco Travaglio, abbiamo sentito il presidente francese Macron che ha parlato alle 8, a rete unificate in Francia e ha detto che i prossimi giorni saranno ancora più duri, lui resta in contatto con Putin, insomma diciamo che c'è una mobilitazione anche a livello diplomatico, pensiamo che il segretario di Stato americano Blinken ha appena annunciato che da domani sarà nell'Europa dell'Est. Tu che cosa ti aspetti? Siccome hai scritto che Putin può essere cacciato ma la Russia non va umiliata, che soluzione è possibile adesso in questo momento? No, io non ho gli strumenti per rispondere a questa domanda, tanto più mentre stiamo parlando con un collega che sta sotto i bombardamenti. Io credo che si dovrebbe tenere presente la storia, noi domani pubblichiamo dopo quello di Kissinger l'intervento dell'ex capo della CIA che avvertiva gli americani stiamo attenti ad allargare troppo la Nato verso l'est perché forniamo munizioni al revancismo nazionalista russo. Stiamo attenti anche a tutte le volte in cui l'Occidente ha pensato di poter decidere chi doveva governare paesi molto lontani. Abbiamo buttato giù Saddam, ci siamo ritrovati l'Isis, abbiamo buttato giù Gheddafi, ci siamo ritrovati il casino in cui si trova la Libia. Abbiamo favorito il golpe di Al-Sisi e adesso praticamente scopriamo chi è Al-Sisi pur sapendolo anche prima. Abbiamo sostenuto con grande entusiasmo le primavere arabe e poi abbiamo dovuto favorire dei colpi di Stato perché poi quando arrivavano le elezioni vincevano quelli sbagliati, cioè i fondamentalisti islamici. Abbiamo cercato di buttare giù i talebani, siamo scappati, facendoli ritornare più potenti di prima e più dotati di consenso di prima. Non so se lo scopo di questa mobilitazione, come leggo da parte di alcuni, sia quello di sperare nella caduta di Putin, ma io credo che se si dovesse arrivare a una caduta di Putin, nessuno ci può garantire che chi viene dopo sarebbe meglio o meno peggio di Putin. E quindi io credo che una soluzione negoziale non può escludere in primis una via d'uscita in qualche modo per Putin e dall'altro lato evitare di gettare le basi finita questa guerra per un'altra guerra, perché non è detto che questa sia l'ultima in quell'area. Tu pensi, hai titolato oggi con il tuo giornale Entriamo in guerra, ma non si può dire. Perché pensi questo? Di Maio ieri sera per esempio ha ribadito che l'Italia non è un paese in guerra, ma tu pensi che nei fatti siamo in guerra? E' proprio perché Di Maio e Macron dicono che non siamo in guerra, ho titolato che non si deve dire, perché non nascondiamoci dietro un dito, ieri è successa una cosa importante, io non sono affatto sicuro che sia un errore, quindi lascio il beneficio del dubbio. Gino Strada diceva, noi oggi domani pubblichiamo l'anticipazione del suo libro Postumo, dove lui sostiene la sua tesi di sempre, cioè tutte le guerre sono sbagliate, non esistono guerre giuste perché 9 vittime su 10 sono sempre civili. Io non sono mai stato così estremo, quindi mi veniva anche da sorridere quando sentivo dire da Enrico Letta l'altro tre giorni fa che bisognava mandare armi non letali, cioè una popolazione aggredita che deve rispondere all'esercito russo, cosa gli mandi? Le fionde, le cerbottane, i fucili a tappo? E' ovvio che gli devi mandare delle armi letali oppure non gli mandi niente. Pensavo che sarebbe stata un'iniziativa europea e non dei singoli stati che decidono quali tipi di armi mandare, esponendosi in maniera diversa. Ho visto che la Spagna ieri ha detto non le mandiamo, oggi ha detto le mandiamo, ma si è aperto un gran casino all'interno della maggioranza perché Podemos le armi non le vuole mandare. L'Irlanda non manda armi ma manda approvvigionamenti sanitari, nella Nato c'è una voragine perché la Turchia oggi non ha votato la condanna e non manda armi e non applica nemmeno sanzioni da quello che ho capito. Quindi diciamo che avviene tutto così in maniera un po' alla spicciolata e per di più con uno strumento, quello di una risoluzione votata dal Parlamento che dà mano libera al Governo per quasi un anno. Insomma una cosa così drammatica e inedita di revocare il divieto di esportazione delle armi a Paesi che non sono nostri alleati avrebbe meritato forse uno strumento parlamentare perché di solito è il Parlamento che decide l'entrata in guerra, non è il Parlamento che si siede ai piedi del Governo e gli dice fate voi. E poi come entrano queste armi? A me hanno spiegato, lo spiegheremo domani sul fatto che entrano in scena i contractor per farle entrare, entrano in scena sotto forma di finti convogli umanitari e finti voli commerciali e ci sono dei mediatori privati che le portano e si prendono la provvigione anche in termini di armi e poi se dovesse vincere Putin finisce esattamente come in Afghanistan dove abbiamo armato gli eroici mujahideen perché scacciassero l'armata rossa e poi quegli eroici mujahideen sono diventati dei terribili, feroci, tagliagole talebani sempre secondo la nostra descrizione che hanno usato quelle armi per cacciare i nostri di esercizi. Allora... Questo è ciò in cui crediamo. Questo è ciò in cui crediamo. Questo è ciò che siamo. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.